Musica Reggio Calabria, operazione contro la bosca di Indrangheta Pesce, 53 gli arresti nell'operazione congiunta tra polizia, guardie di finanza e carabinieri del ROS. Operazione antidroga nel Catanzarese, 21 le misure cautelari, l'organizzazione usava minori come corrieri. Omicidio Bergamini, chiesto il processo per l'ex fidanzata Isabella Internò. Frode e truffa sui contributi Covid-21, le persone arrestate, sequestro beni per 40 milioni di euro in diverse regioni, tra queste anche la Calabria. Grazie